Prima volta di Mario, tocca i conchi e gli piacciono più le donne, fai schifone se ti vuoi e frullate le manane. Proterci, ovviamente. Prima volta di un personaggio che odiamo la sua esistenza. Per sconfiggere i cubati devo prima lasciarli, questa cosa non funzionerà più. Mario muore nella copritina. No, non so scherzato, Mario cade nella lama mentre tenta di saltare. È difficile e basta. Tocchi Tocchi Panic ma con Mario. Se lo smettessi di sfottere i suoi capelli col gel, non sbauterebbe gli altri boss. Qualcosa che non si capisce nulla. Non credevo che Mario è un medico. Piace inutile nel castelli. Volevo fare zero con due giocatori. Ma il Super Nintendo non reggeva, quindi si trasformava in un gioco di cocarta con Mario. Cami questo gioco sei un artista. C'è almeno Mario. La prima volta che Mario sfotte il tempo. Prima di far dargli il tempo. E' il gioco che contiene una motosega. Wario si è preso Mario Land. La serie. Toast. Però ci fa schifo come Baby Feater. Se odi questo gioco fai pena. Un harddisk morì e dove devo fare la selezione dei personaggi da capo. Aggiungi le due animazioni però. Per X sbaglia francese ha fatto questo. Non sapevo che Sniper giocasse a Tiffo 3-2. Ecco il premio per chi ha la mamma meretrice. Aspecchi. Se uccidi Bowser sei un mostro. Non sapevo che Sakurai piacesse far combattere i personaggi intanto illegalmente. La prima volta di Waluigi. La carta fa schifo. E chi se lo ricorda? Non so non posso avere una battuta per ogni cazzo di gioco. Non sapevo che Rebù sembra gay. Sembra il remake di Super Mario Kart. Non sapevo che una situazione tra Bowser e Ganondorf può essere complicata. Se odi questo gioco fai meglio. La prima volta di Bowser Junior. Lot fa schifo. Questo gioco è inutile. No, non si chiama Totsworld Tour. La trama è inutile. E' benissimo il remake. E' quando ci danno i clips, eh? Le palle. Se odi questo gioco fai pena di esse. Non sapevo che Bowser fa schifo a baseball. Se odi questo gioco fai schifo. L'ultima su Gamecube. FIFA ma con Mario. Se odi questo gioco hai vinto il primo Nobel. Non sapevo che Peach prendi i calci in cula e Goomba. Ci sono due copertine. Di solito prendi la guada con Mario Gigante. Ma sapevo che in passato ci fu un ravimento di massa. Il Villain è un coglione. Distruggi il mondo perché apri tu dalla compagna. Il presentatore è il vero Villain. Pesso ma con Mario. I Duma mi fanno schifo. Se odi questo gioco sei un mostro. Il primo episodio crossover. Ma dopo che Snake Mario Snake ha un bel cu... Se odi questo gioco muori. Non c'è in Europa perché da noi il baseball è meno cagato. Lui coperò materiale quando vuoi fare una mod di Super Mario. Il primo crossover invernale. Yoshi fa schifo. Bahamut sbaglia il gioco e gioca con Mario a dodgeball. Non sapevo che Mario fuori. Non sapevo che Bowser è scemo. E' il primo gioco in cui Eggman esce. Pingas! Con questo gioco puoi avere uno che ti scrocca il passaggio. Non sapevo che Bowser è stato reddinzato male. Che il gioco poteva esserci anche Wario. Che odi questo gioco fai schifo. Non sapevo che Mario colleziona stickers. Letteralmente l'ultima canzone poi la luna esploderà. Catti. Non sapevo che Bowser giugno fa schifo. Se dovresti impianato, bene. Se lo trovi incluso, ti includo. Faccio una città della giusta e meridionale. Situata in te... Non so quello. Sulle rive del Mar Nero. Non dico perché è lì che è ambientato il gioco. Non sapevo che Newtour Flash fa schifo. Qualcosa di originale almeno. Che noia! Ma sapevo che su 3DS la grafica fa schifo. Ma sapevo che su Wii U la grafica è meglio. Inti aggiungi una castrazione fatale. Amiibo. Ho ancora questo. E anche questo. Fa schifo e basta. Fanno abbastanza cagare i porti per i portati. Gattismo sui colori. Non sapevo che il 12 mi fa gasare. Il nuovo Newton. E il primo crossover con Rayman. Ehi Peach che ci fai qui? Oh ciao Mario. Volevo solamente andare un po' a pesca. Haha Peach. Mi fai morire. Letteralmente ogni top di YouTube. Bowser Junior era forte a 200 punto. Ma non sapevo che Bowser fa schifo in matematica. Troppa roba lo so. Ok per Yoshi. Dato in questo gioco fa schifo deluxe. Avevo la demo su Switch ma l'ho dovuto rimuovere per... robe. Beh. Beh io. E' in un hotel non è un palazzo. Beh. Merda. Beh. No davvero che Bowser può diventare Dunslayer? Laia! Mi sembravo un remake Festa è Fifa ma con Mario Fai a me nella parte del DLC MINGA STO' TUTTO FATTO Fai a me nella parte del DLC